La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore totale di 793.000 euro nei confronti di una società con sede legale a Villa Castelli e sede operativa a Grottaglie che esercita l'attività di commercio all'ingrosso di computer e altre apparecchiature informatiche. Il provvedimento cautelare trae origine da una verifica fiscale conclusa dagli agenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto nel maggio 2018 nella quale è stato constatato che l'amministratore nonché socio unico della società nella dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2016 avrebbe indicato ricavi di gran lunga inferiori a quelli effettivi e avrebbe annotato inoltre costi non documentati per 3.800.000 euro. L'amministratore è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di dichiarazione infedele per un'evasione d'imposta pari a 793.000 euro, cifra poi sequestrata dalle fiamme delle gelle ioniche. Grazie. Grazie.